Eccola la partenza, prima tappa, prima giornata delle mille che ho avuto ai cento di euro per i porti inizione 2013 Arriva, dai, tu andai, tu andai, tu andai, tu andai A tagliare il traguardo lo farà tra poco, prima tappa, va a vincere questo spicciolo, il 2011, Anna Ferrari, prima tappa, è tutto per voi E la musica è quella che ti piace, Anna, previazione, abbiamo previazione, Claudio Salmoni Sono stati, ma è difficile, però sono stati e si può andare bene, sotto la croce rossa italiana E' da solo o ce ne sono altri dietro? Uno, due, guarda, metti in moto che quasi, quasi, oddio, aspetta un po' Sì, non c'è, non c'è anche l'autore, non c'è nulla Non c'è come riva, che non c�go drapetta altri due un attimo sul primo una grande emozione sempre più libera della 100 gradi di forti non era stata anticipata dalla moto chiedo scusa quindi non me ne sono accorto ma non avevo riferimenti allora andiamo ad appaudirla in questo momento ancora una volta la condizione sta salendo vediamo è Grazie a tutti 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 Silenzio Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti